Ah sì? E' più buono il fritto in due? Brava, hai ragione. E' più buono mangiato così. Ah, guarda, ha più sapore, è vero? È vero, Sergio? Con un bacino poi, guarda, fantastico, faccio bene, così. C'è freddo qua in fondo? Alzate un pochino. Uomini, alzate un pochino i fosos. Hanno freddo le signore? Dall'altra parte c'è più freddo.